Per farti scrivere da un uomo, ok, Blueberry, per farti scrivere da un uomo è davvero importante che tu sei con alternanza a un mixture di segnali, una mezcla, la mezcla latina, la mezcla di segnali. La situazione si basa sulle strategie, ok, però in teoria che succede? Quando tu sei una persona di valore, teoricamente, palle di nuovo questa cosa della persona di valore, quando tu sei una persona di valore, eventualmente sei una persona che riesce più o meno a gestire e a barcamenarsi in quello che deve fare, riesce a alternare la sua presenza, la sua assenza, in realtà sei una persona che può generare ossessione, può generare volontà di scriverti. Ora, se vuoi che lui si coinvolga devi in parte utilizzare strategie e in parte mettere in campo un approccio mentale, quindi il mindset è fondamentale. Ora, che significa? Il mindset, ovvero il modo in cui tu ti poni nei confronti di un uomo, il modo in cui tu ti rapporti nei suoi confronti, il modo in cui tu fai cose con lui, stai con lui, scrivi con lui, eccetera, deve essere condizionato da quello che pensi qua dentro. Cioè nel senso, se all'interno della tua testa c'è una percezione di scarsità e sei davvero in paura, in preda al panico perché lo potresti perdere, accadrà questo. Si verificherà, quindi lo perderai. E perderlo non è il massimo della vita, ok? Pensare di perdere qualcuno è anche decontestualizzato da quella che è la realtà dei fatti tra esseri umani. Cioè, devi innanzitutto comprendere che non puoi perdere un uomo se eventualmente quell'uomo non è tuo. Ma qual è l'uomo che è tuo e qual è l'uomo che non è tuo? Nessuno, ninguno, perché praticamente nessun uomo è tuo in teoria, quindi tu non ti rapporti con nessun uomo, non ci sono uomini che sono tuoi, ok? Nessun essere umano fa parte della tua essenza, fa parte della tua esistenza. Tu soltanto sei un essere umano che gira, che ha i suoi pensieri nella sua testa, che vive nella sua testa, che percepisce cose all'esterno e queste cose che percepisce sono soltanto degli impulsi elettrici, degli stimoli elettrici che vengono dall'esterno. Non puoi pensare che questi facciano parte della tua essenza. Allora, se nessuna persona, nessun oggetto può far parte della tua essenza, può essere inglobato dalla tua essenza, di conseguenza un uomo, un essere umano, un maschio, con delle cose fra le gambe, non è una persona che chiaramente può essere tua. Quindi se cadi in questa percezione, cadi bene, cadi in piedi. Quindi è quello che ci interessa. Ora, tutti gli approcci che fai, tutte le strategie che fai, si devono basare sul riconoscimento di quello che risponde meglio, di quello che risponde bene, di quello che stimola bene l'altra parte. Quindi se io so che la persona con la quale sto interagendo, un uomo, una donna, quello che sia, ha un approccio di un certo tipo, cioè, per esempio, un approccio genitoriale, mi dice che nel suo passato il padre, per esempio una donna, quindi con un uomo o la madre, la madre era molto assente, la madre non gli dava abbastanza affetto, potrei cercare di leggere questa persona sul modo in cui esprime il suo affetto, vedere se è molto fisica, c'è molto contatto fra me e lei quando stiamo insieme, mi tocca spesso, spesso cerca di avvicinare la prossemica, quindi quello è il suo modo di esprimersi. La madre magari non gli dava abbastanza affetto e adesso lui compensa tutto in modo fisico, non era molto fisica la madre, quindi lui ha bisogno di una persona fisica al suo fianco. E questo lo porterà a pensare, a generare un buon imprinting, tanto da pensare poi di doverti riscrivere. Quindi intanto non solo devi lavorare sul tuo assetto mentale, ma devi lavorare su quello che funziona dall'altro lato. Quello che funziona dall'altro lato è comprendere eventualmente che cos'è che risponde bene al modello di espressione, di sensazioni, di attrazione dell'altra parte. Se il tizio è verbale, quindi lui magari fa soltanto apprezzamenti o complimenti verbali, vedi che è molto distaccato a livello fisico, ricadi su quel piano, quindi incomincia ad adattarti, incomincia ad esporre apprezzamenti verbali o complimenti, o comunque rapporti diciamo verbali, quindi verbalizza le cose che dici a lui, ok? Quindi verbalizza tutto, non rendere tutto fisico, gli apprezzamenti saranno verbalizzati, sarà tutto verbalizzato. Questo è un buon modo per farlo infatuale. Quindi che significa? Per esempio, se lui è molto fisico, vedo che mi prende la mano spesso durante il giorno, mentre quando siamo insieme mi tocca le mani, mi abbraccia, fa, io quando esprimo affetto, mi tocco le mani, lo abbraccio, eccetera, non dico niente. Se per esempio mentre parliamo, vedo che lui è molto che mi fa i complimenti, si avvicina a me, mi fa i complimenti, ma non mi tocca, non fa niente, allora in quel caso io gli farò dei complimenti allo stesso modo, subito dopo, no, dopo qualche minuto, dopo qualche mezz'ora, dopo un'ora, mi avvicinerò a lui a fargli i complimenti. Questo è il modo migliore per rispecchiare lo stesso modo di affetto, e questo lo porterà a pensare che sei meglio tu delle altre, perché le altre saranno disattente, saranno poco presenti. Ora, devo testare il terreno, devo testare, quindi in parte, quando stai con lui a zeroi la prossemica, a zeroi la prossemica significa che, quando stai con lui, mentre stai con lui, provi a toccarlo leggermente nelle parti esterne qui, e vedi che il tipo di risponso, risposta ti dà. Buona questa risposta, è malandrina, è una risposta positiva, è una risposta negativa, quel tipo di risposta ti dà quando lo tocchi sulla parte esterna? Ti tocca anche lui dopo qualche minuto? No. Non ti tocca tutta serata? No. Ok, è possibile che sia verbale, ok? Quindi capire di che cosa ha bisogno. Ragazzi, se io so di che cosa ha bisogno una persona, di che cosa ha bisogno un uomo, riesco a gestire la situazione, riesco a riuscire a controllare la situazione, riesco eventualmente a rapportarmi nel modo migliore con l'altra persona, riesco a sedurla, riesco a sedurla, riesco a farmi scrivere, mi faccio scrivere, mi faccio cercare, ok? Si chiama calibrazione. Molte donne, quando le sento in call, mi dicono che fanno delle cose che sono scalibrate. La calibrazione non è soltanto in quello che ci ho appena detto, è anche nella prioritizzazione, giusta o sbagliata, di un rapporto sentimentale, o di un rapporto, o di una frequentazione. Hai notato il nome diverso che gli ho dato? L'hai notato? No, te lo ripeto, rapporto, relazione, frequentazione, simil frequentazione, ci sono degli stadi, incomincio a frequentare una persona, è frequentazione, simil relazione, è quando è sottinteso, che voi vi vediate con una certa cadenza, ma non è scritto, non è stato verbalizzato, non è stato etichettato, non avete l'etichetta, simil relazione, ok? O frequentazione, ma è più simil relazione, frequentazione è una volta ogni 15 giorni, ci vediamo, ok? Se non calibri in base a questo, e allora gli scrivi 300 volte al giorno, perché è stata in simil relazione, e tu gli scrivi 300 volte al giorno, come se fossi invece sposati, eh? Dove stai, dove non stai, distruggi tutto, distruggi attrazione, distruggi tutto, e non ti scrive, non ti risponde, ok? Devi valutare tutto in base a quello che l'altra persona sta facendo, quando giocava a poker, all'epoca, ho smesso purtroppo, una passione che, ormai è rimasta solo una passione, mi dispiace perché mi sarebbe piaciuto, però, troppo altalenante, non mi piaceva questa cosa, questo stile di vita, ci si adattava all'avversario, c'è una standard line, quindi una linea generale, un approccio generale, e poi c'è un adattamento all'avversario, un adattamento sulla base, della comprensione di quello che risponde meglio, all'altra persona, è una persona che si fa bleffare spesso, allora blefferai di più, una persona che non si fa bleffare mai, allora blefferai molto di meno, molto semplice, un approccio di questo tipo, una volta che hai dimostrato, quindi a lui, di saperti dare, quello di cui ha bisogno, che cosa fai? niente, ti ovviamente, puoi tirare indietro, a fase alterne, quindi mixare, e poi, riconcederti, sempre a fase alterne, un buon radio, sarebbe 1 a 1, o 2 a 1, quindi due volte ci sei, una volta non ci sei, e una volta ci sei, e una volta non ci sei, per poi ritornare in disponibilità, in testing, quindi in calibrazione, ed essere presente ai suoi confronti, so che magari questi discorsi, possono essere stati un po' troppo astratti, mi raccomando, riascoltati il video, perché ci sono dei contenuti importantissimi, che ti consentono poi, di apprendere bene, quanto puoi applicare queste cose, anche in tutti gli altri contesti, delle relazioni, dei rapporti con lui, I'll see you in the next, Federico Picchianti qua, iscriviti, seguimi, un abbraccio.